ciao buongiorno a tutti oggi vi portiamo all'interno di una caverna che abbiamo trovato siamo nel ponente genovese sulle colline e durante una nostra ricerca storica seguendo alcune trincee della seconda guerra mondiale ci siamo imbattuti in questo posto l'entrata è abbastanza nascosta ed angusta però alla fine ci siamo trovati all'interno di questa grotta che 90 al 100 era una riservetta militare con annesso rifugio il rifugio se così lo vogliamo chiamare non è lunghissimo sarà una cinquantina di metri con alcuni locali per le riservette militari e a una seconda uscita dove adesso risulta esserci un burrone infatti noi siamo usciti da quella parte ma poi siamo ritornati indietro sui nostri passi perché il sentiero veramente non c'è più anche le trincee ormai sono veramente irriconoscibili noi avevamo delle carte militari dell'epoca e quindi siamo riusciti andando a ritroso e seguendo un filo di logica a cercare questo luogo e a trovarlo al suo interno non abbiamo trovato grossi indizi e soprattutto non abbiamo trovato oggetti noi non facciamo ricerche col metal detector per cui questo lo lasciamo ad altri ne facciamo solo le portage foto e video e il tempo per l'escursione già era abbastanza agli sgoccioli questa è un'escursione fatta in un periodo estivo e salire su questa collina anche se non è molto distante dalla sala principale è stato già abbastanza dura alla prossima ciao 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 ciao